Se non lasci stare la mia famiglia, ti giuro che ti ammazzo. Basta. Se Agatha e la madre si sono incontrate prima dell'incendio, sarebbe un disastro. Stai tranquillo. Il vostro segreto è al sicuro. Che cosa devo sapere? Che se la figlia di Moretzia Scalzi si entra da dentro casa mia con l'inganno. E spero che questo serva a mettere fine a questa storia.